Salve a tutti e ben rivisti, come state? Spero bene. Io diciamo bene, molto molto meglio rispetto a questi ultimi mesi. È stato un anno importante, è stato un anno di cambiamenti, è stato un anno che mi ha portato in una direzione che mi si avvicina sempre di più, che si assomiglia sempre di più a quello che sono io. Oggi voglio parlarvi di un prodotto, di un'azienda con la quale collaboro, che mi è stato inviato, di cui sono davvero felice. Voglio fare una premessa, vi avevo già anticipato e chiesto se vi faceva piacere che io parlassi delle mie collaborazioni, c'è stato un buon riscontro da parte vostra, ma soprattutto ci tenevo a mettere in chiaro che le collaborazioni o comunque il lavoro che faccio con determinate aziende, frutto di un'attenta verifica da parte mia. Non mi sognerei mai di proporvi o di parlarvi di prodotti che uno non ho utilizzato io in prima persona e quindi parlando naturalmente della mia esperienza e due di prodotti che non sono in linea con la mia morale e con tutto quello in cui credo. Quindi sono felice di proporvi questo prodotto perché si tratta di un'azienda a mio parere molto valida, si tratta di un prodotto che riguarda la salute, soprattutto psicologica, ma anche fisica. L'azienda di cui voglio parlare oggi è Ambruteen. Ambruteen è un brand giovane che offre prodotti vegani e corresponsabili e di alta qualità certificati dell'Unione Europea. Per loro la sostenibilità è molto importante, infatti si premurano di fare imballaggi plastic free e per ogni prodotto venduto hanno deciso di piantare un albero donando dei ricavati ad un'associazione chiamata Eden Project. Il CBD è un principio attivo della canapa. A differenza del THC, anche esso principio attivo della canapa non ha effetti psicotropi, quindi non va ad influenzare la nostra psiche, ma ha un effetto rilassante, antinfiammatorio, antiansiolitico e antidolorifico. Quindi è in grado di essere efficace contro diversi problemi quali attacchi d'ansia, stress, mancanza di sonno, dolori da ciclo mestruale, quindi dolori cronici da ciclo mestruale, endometriosi, dolori dovuti a reumatismi, artriti o semplicemente per affrontare un periodo particolarmente stressante e quindi rilassarci. Io in collaborazione con Ampruteen ho deciso di provare due dei suoi tanti tipi di oli perché la percentuale dell'olio CBD che possiamo utilizzare va dal 5 al 30 per cento, a seconda anche della gravità dei nostri problemi. Il mio problema principale quando Ampruteen mi ha contattato era mancanza di sonno. Stavo affrontando un periodo davvero stressante e la mancanza di sonno in quel momento era il mio problema principale, anche perché poi di conseguenza mi dava tanti altri problemi, un ulteriore stress dovuto alla mancanza di sonno, quindi ho deciso di provare due dei suoi oli, entrambi con percentuale al 10 per cento ma uno arricchito con melatonina, ideale per addormentarsi, che è questo qui, e l'altro invece semplicemente olio di CBD al 10 per cento, molto utile per i giorni in cui magari c'era un particolare stress oppure qualche doloretto fisico perché mi ha aiutato tantissimo anche con i dolori alla schiena, specie nel periodo del ciclo, ma anche quando aveva un carico di lavoro fisico molto più importante. L'olio di CBD viene assunto sotto forma appunto di olio con una speciale pipetta, eccola qui, c'è una gradazione per sapere quante gocce stiamo ingerendo e va inserito sotto lingua, quindi nel sublinguale, lasciato agire per circa 30 secondi e poi ingoiato. Per quanto riguarda l'olio di CBD con melatonina al 10 per cento, io lo assumevo un'ora prima di andare a dormire, 10 gocce, il dosaggio consigliato è 12 gocce, io l'ho utilizzato con questo dosaggio di 10 gocce ed è andata benissimo. Ricordo le prime volte che l'ho utilizzato che il mio compagno mi diceva non hai fatto un fiato durante la notte, quando invece io mi svegliavo spesso e anche per rumori davvero lievi. Quindi vi posso assicurare che nel mio caso almeno l'olio di CBD con melatonina, questo al 10 per cento, mi ha aiutato tantissimo. L'ho utilizzato per 4-5 giorni per poter riprendere il sonno e adesso lo utilizzo solo all'occorrenza. Non facevo un sonno così rilassato da tantissimo tempo. L'olio di CBD invece al 10 per cento lo utilizzo qualche volta al mattino quando so di avere una giornata particolarmente stressante, quando magari mi sta tornando il ciclo che il mio non è particolarmente doloroso ma soprattutto mi prende il mal di schiena, anche questo stessa cosa, dosaggio sempre 10 gocce al mattino dopo aver fatto colazione. Sono davvero contenta di aver potuto provare questi prodotti e sono felice che Amplutine mi abbia dato questa possibilità e ve ne voglio parlare per diversi motivi. Uno perché per me sono stati davvero efficaci e quindi quando una cosa è valida vale la pena di sponsorizzarla. Può essere utile anche a altre persone come è stato utile a me perché questi prodotti mi hanno davvero aiutato, mi continuano ad aiutare anche adesso nei momenti particolari di stanchezza fisica o mancanza di sonno e soprattutto perché Amplutine mi ha dato la possibilità di offrirvi un regalo, un codice sconto del 15% sempre che è la cucina di Lena 15. Nel momento in cui andate o volete andare sul sito di Amplutine e fare nel momento dell'atto del pagamento potete inserire il mio codice sconto che è del 15%. Però in questo periodo fino al 28 di novembre c'è una promozione ulteriore perché siamo in autunno e sicuramente si è un po' più stressati col buio che cala, infatti già adesso sta facendo buio ed è prestissimo e quindi magari c'è un ulteriore bisogno di aiuto e questo codice sconto lo stesso quindi la cucina di Lena 15 sarà del 20%. Io volevo farvi approfittare di questa opportunità quindi se vi interessa sappiate che potete acquistare i prodotti di Amplutine con il mio codice sconto. Io spero di essere stata abbastanza chiara, vi lascio tutti i link e le informazioni più utili sotto nel box informazioni e vi lascio anche il link alla pagina che ho creato su Amplutine sul mio sito così magari lì potrete leggere quello che ne penso in generale e avere qualche nozione in più e vi ringrazio per l'attenzione. Fatemi sapere cosa ne pensate voi innanzitutto di questa collaborazione ma anche se conoscevate l'olio di CBD. Se lo conoscevate e lo avete già utilizzato come vi siete trovati e se invece non lo conoscevate se può essere un aiuto naturale, più naturale possibile a tanti problemi che purtroppo ci affliggono. Io vi mando un bacio grande e al prossimo video. Ciao!